Ah tesori piccolo ps, vi volevo ringraziare tantissimo per tutti i feedback che mi avete dato su Lucy, sono stata stra contenta di tutti i commenti, veramente siete fantastici e mi sono dimenticata di dirvi nel video che ogni lunedì ci sarà un pezzettino della storia di Lucy, o un capitolo o appunto quello che ci sarà lunedì prossimo sarà il continuo del primo capitolo, infatti ho sbagliato perché tante cose non le avete capite perché quello è un capitolo spezzato e qui ho sbagliato. Però appunto ci sarà ogni lunedì un capitolo di Lucy, dando così vita a Lucy D, quindi vi aspetto con la storia di Lucy lunedì prossimo. Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! Sì, questo saluto mi piace molto di più. Allora, era un bel po' di tempo che non vi facevo vedere le mie creazioni, infine mi è dispiaciuto tantissimo non farvi vedere quelle dello scorso app, i camion, sempre quando faccio i video comunque. Non credi, ma sovi dell'orario. Dicevo, mi è dispiaciuto moltissimo non farvi vedere quelle dello scorso app che erano le alchimiste delle guie con i cappelli a forma di rosone e insomma volevo tanto farvele vedere in video ma purtroppo dovevano partire e quindi niente le ho impacchettate e spedite e il video non c'è stato. Però di queste volevo assolutamente farlo. Allora, in vendita stasera sul mio big cartella a partire dalle 21 ci saranno questi quattro quadretti, chiamiamoli così quadretti perché sono da esposizione. E in questo video adesso vi faccio vedere anche la nuova Lady Pancakes. Allora, dovete sapere che ogni anno, ormai da un bel po' di anni, mi piace fare gli app a tema dolcetto scherzetto e questa cosa la raffiguro con streghe, vampiri eccetera eccetera e poi il dolcetto con le Lady Pancakes. Quindi è da un po' di anni che a ottobre ci sono le Lady Pancakes e quest'anno ho pensato di farle a mo' di streghetta per adattarle a Polymectober di Nadia con cui sono anche bestensi indietro perché devo fare due personaggi. E dunque, quindi le Lady Pancakes saranno disponibili invece a fine ottobre insieme ad altre amichette perché Porella non ci può stare solo lei in mezzo a loro, ha paura, mi ha detto no no, mettimi con le mie amichette e quindi così. Comunque ve la volevo far vedere, il tema qui era pozione magica e lei sta creando quella più famosa ed efficiente di tutte, la cioccolata. Spero vi piaccia e sono super soddisfatta del suo visino. Poi, il tema di questo mese per le mie alchimiste era il travestimento. Hanno appunto scelto di travestirsi da alcuni personaggi horror o personaggi comunque cult del tema Halloween. E la prima nata, che è quella anche che vi è piaciuta più di tutte, è stata lei che si chiama Rita. Rita, 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 quello insomma. Me l'ha suggerito Angelo il nome. Eccola qui, mi è piaciuto da morire realizzarla. Non vedevo l'ora di farvela vedere meglio in video. Questo è il suo volto. Sono grandi, ma comunque piccoli in realtà. Questi sono i palloncini di cui vado tanto tanto fiera, fatti col Fimo Liquid. Vi ho fatto vedere nelle mie storie di Instagram come li ho realizzati. Qui c'è Giorgi con la barchetta. Qui dalle foto non si vedeva, ma c'è anche un po' d'acqua. E guardate, il palloncino è trasparente, si vede attraverso. E qui c'è il cappello fatto di denti. Ci ho messo veramente un casino di tempo solo per questo cappello. Però vi è piaciuto tantissimo. Cioè, non vi piaceva così tanto la mia creazione da tantissimo tempo e quindi sono stata strasoddisfatta. Poi è stato davvero divertente realizzarla. Non avevo mai fatto una cosa del genere. E sapete che ultimamente sto sperimentando molto. Sto uscendo tantissimo dalla mia zona comfort. Cioè, non è che sto uscendo. Ho proprio fatto le valigie e sono andata da un'altra parte. E quindi, niente. Sono stra contenta che vi sia piaciuta. E quindi, niente. E questa è Rita. Fa paurissima, eh? Fa paurissima. Ok. In tutto ciò, in tutto ciò, io ovviamente questi film non li ho visti. Cioè, questo non l'ho visto. Freddy Krueger non l'ho visto. Ho visto solo sui Side Squad. Questo no. E infatti andiamo in ordine. E c'è JJ. Lei è l'alchimista che appunto si è travestita da Joker. Il suo cappello sorride e le ho fatto il sorriso originale del Joker. Quello dei fumetti, proprio degli anni 80, 90. Non so. Non so. Che anno è Joker? Qui sul cappello ha le carte da gioco. Questa è stata la mia prima boccuccia. Mi è felice. Poi ci ho messo dei pipistrellini. Questo è l'abito. Questa è la base. E queste sono le scritte che si illuminano con la luce UB. sempre con i prodotti della Green Stuff che vi ho fatto vedere negli unboxing. E praticamente la sua scopa è fatta di fuochi d'artificio. Perché sappiamo tutti la fissa che ha Joker per la dinamite. E quindi lei invece è appassionata di fuochi d'artificio. Diciamo così. La cosa che più mi è piaciuta di lei ovviamente è stato realizzare il sorriso. Perché veramente è una cosa che non avevo mai fatto. Anche i dentini, la lingua. Non lo so. Ve l'ho detto con questa collezione. Ho fatto tantissime cose che non avevo mai fatto. E sono stata molto soddisfatta del risultato. In realtà la bocca che più mi piace è stata questa di Harley. Come vedete è un po' quella più semplice. Perché non lo so. Mi piaceva la sua espressione e quindi non volevo che distogliessero l'attenzione dal suo volto. Adesso ve la faccio vedere più da vicino. Eccola qui. Guardate la bocca! Aspettate. Eccola qui! Ho fatto la lingua. Mi sono divertita tantissimo. Poi vedete comunque non è proprio grande. Quindi ho dovuto lavorare comunque con un pungolo. Mi piace tantissimo il pigmento che ho usato per le parti blu. Poi vabbè questo effetto sangue della Green Stuff per questa collezione è stato essenziale. E lei praticamente invece della mazzata baseball ha il bastone magico perché comunque sono alchimiste loro. Ha il bastone magico che appunto fa addormentare gli uomini che la rifiutano e gli fa fare gli incubi. Questo. E poi ha i pompon. Questo è il cappellino. I capelli. E niente, la sua espressione mi piace da morire. Parlando di incubi, adesso vi faccio vedere quella che è la creazione più, mi viene da dire brutta, ma è brutta perché mette proprio l'ansia che io abbia mai fatto. E cioè quella dell'alchimista che è vestita da Freddy Krueger. Cioè ragazzi, ma io solo a vederla così, già non avvicinando, mi viene l'ansia, mi mette proprio l'ansia. Sarà tutto il contesto, il nero, ma la forma del cappello, la forma, cioè la sua posa, mi mette proprio l'ansia. Poi non so se avete seguito su Instagram quando l'ho cotta, che c'era, è andata in panico perché, oddio, ho messo Freddy in forno. Mi ero fatta tutto un film che la creazione durante la notte avrebbe preso vita e mi avrebbe ucciso. Vabbè, no, io sto male, veramente. Comunque, a lei ho aggiunto questa pergamena, tutta trattata ovviamente con gessetti, acrilici, prodotti Green Stuff, con la filastrocca che cantano le bimbe. Ogni volta che lui entra in un incubo, almeno io così ho sentito, perché vi ripeto, io non l'ho visto il film ed è meglio che non lo vedo. Poi, questo è il suo abitino, con il maglioncino che ho cercato di riprodurre, anche le mani con, insomma, queste cose che ha a lui. E questo è il volto, sono molto soddisfatta dell'effetto perché l'ho fatto grazie a quel prodotto Green Stuff che dà, appunto, l'effetto rovinato. E poi ci ho messo quello effetto sangue e wow, cioè, il risultato era proprio quello che volevo. E poi questo è il cappello che riprende un po' il cappello proprio di Freddy, a parte per la punta, che è poi accuminata. E qui ci ho messo la corda, per ricordare un po' la corda che utilizzano le bambine. Qualsiasi informazione mi è stata data dai miei amici che hanno visto il film, perché io da sola non sarei riuscita a combinare niente, cioè, non sapevo cosa metterci. Però, comunque, mi sono divertita tantissimo. Questo è l'orsocchiotto perché quest'alchimista praticamente fa tipo cose voodoo, cos'altro avrebbe potuto fare. Però, comunque, sono stata contenta di vedere che a molti è piaciuta e però a molti ha messo ansia quanto le mette a me. Quindi, però, cioè, non posso nemmeno dire, ah, non è piaciuta, perché il fatto che mi si dica mette ansia e fa paura in realtà comunica il fatto che la creazione è riuscita. Quindi, ok. Bene, tesori, il mio video finisce qui. Io spero tantissimo che questa collezione horror vi sia piaciuta. Cioè, horror fra virgolette, no, perché lei fa paura, lei è horror, punto, e basta. Quindi, spero che questa collezione di Halloween vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Ne arriveranno, appunto, altre quattro perché ne ho progettate proprio otto. Ed, appunto, queste ultime quattro, insieme poi alle Lady Pancake, saranno disponibili a fine ottobre. Io adesso vi lascio, resto in attesa dei vostri pareri, vostri commenti. Vado a caricare le foto sul sito. Vi ricordo che saranno disponibili dalle 21 sul mio bicartello. Vi metto il link qui sotto nell'info box. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!